Torna la paura di un blocco francese alla frontiera con il Regno Unito a causa del Covid. La Francia, infatti, starebbe per dichiarare illegali test rapidi, perché inaccurati. Sono quei test che invece vengono fatti ora a tutti gli autisti che trasportano merci attraverso il canale della Manica e se non dovessero essere fatte eccezioni, si rischierebbe un nuovo blocco. Il ministro dei trasporti britannico, Shaps, spera che si facciano ad erogare gli autisti dei camion in modo che possano continuare ad usare i test con risposta entro 30 minuti, ma si dice comunque preoccupato. Questi, infatti, sono gli unici test che attualmente forniscono una risposta rapida per poter rendere il trasporto merci fluido. Se dovessero essere richiesti test con tempi più lunghi, si rischierebbe di nuovo il caos alla frontiera. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430. Grazie a tutti.